Sì, mister, buonasera. Claudio Giuliani, Juventus TV. Una formazione difficile, l'Atalanta ad affrontare, si sapeva, una delle più informe del campionato. La Juventus ha recuperato due volte, la Lazio ha perso in casa, aumenta il distacco sulla seconda. Si può dire che è un punto che vale una vittoria? È un punto importante, preso contro una delle squadre, penso, più in forma d'Europa in questo momento. Una squadra veniva da 9-10 vittorie onsevative, una squadra difficilissima da affrontare. Una squadra che dal punto di vista fisico era più fresca e più brillante di noi nel primo tempo. Per fortuna noi, a livello di tenuta, mi sembra che abbiamo avuto qualcosa in più, perché nel secondo tempo mi sembrava che avessimo qualcosa in più da spendere noi rispetto a loro. E considerate queste premesse, considerate il fatto che siamo andati due volte in svantaggio, è un punto importante. Buonasera, Giovanni Guardalà a Sky Sport. Ciao. Per richiamarmi a quello che diceva ieri, le chiedo alla fine la seduta dal dentista come è andata, se è tolto il dente, è tolto il dolore. E mi volevo focalizzare soprattutto sull'atteggiamento della difesa, perché lei ultimamente aveva elogiato l'atteggiamento della squadra che difendeva molto alto, difendeva in avanti, sui gol, soprattutto su quello di Malinoski, mi sembra emblematico che questo non sia accaduto. Le chiedo se è merito dell'Atalanta o c'è qualcosina da rivedere. Ma sono venuti fuori due gol su due situazioni in cui da due giorni stiamo parlando di essere pericolosissimi. Giocare palla addosso con il modo di difendere hanno loro, 5 su 10 rivala a perdere palla, anche se sulla prima palla perso di bala ci potrebbero essere anche gli estremi del fallo, però quelle sono le situazioni in cui l'Atalanta fa male. Queste rionquiste alte, ripartenze fortissime, ti possono far male. Sta una palla persa anche in occasione del secondo gol, in maniera diversa ma un'altra palla persa. Nel primo tempo sinceramente abbiamo difeso in maniera un po' conservativa, un po' troppo bassi, ma nel secondo tempo no. Nel secondo tempo è stato più occasionale perché abbiamo preso il gol del 2-1. Forse in uno dei nostri momenti migliori, un momento in cui l'Atalanta ormai da 35 minuti non ci sta più creando nessun tipo di problema. Penso che sia stata la fase difensiva bassa al primo tempo, non un problema tanto della linea difensiva, che essendo l'ultima linea è quella che si adegua all'atteggiamento della squadra. Penso che sia un problema di atteggiamento, anche se può contenere l'Atalanta in certe situazioni e prenderla l'altra non è neanche semplice. Ministro, buonasera, Andrari Scassi, Rai Sport. Dal punto di vista dello scudetto, questo punto che tiene allontana l'Atalanta, quanto avvicina il nono titolo? Abbiamo 8 punti di vantaggio, se ne sono 18 un palio, sappiamo che dobbiamo fare 11 punti. Tutti il resto sono discorsi, tutti il resto sono probabilità, ma a noi le probabilità non ci interessano. Dobbiamo fare 11 punti nelle prossime 6 partite. Stop. Ciao Maurizio, Volevo chiederti un piccolo bilancio, un piccolo resoconto di questa prima fase di post-campionato. Avete vinto 4 partite contro 4 squadre di bassa classifica. Quando avete giocato con squadre di livello più alto, avete fatto 3 pareggi e una sconfitta. C'è un'analisi di questo da parte vostra? Ti suggerisce qualcosa? Mi suggerisce che è un momento difficile per noi, un momento difficile per tutti. A parte l'Atalanta, nessuno riesce a trovare una grandissima continuità in questo momento. Ma è normale. Ti trovi a giocare a luglio, anche stasera le ondizioni climatiche erano pesanti, grande umidità, quindi il dispendio di energie fisiche in queste partite è raddoppiato, il dispendio di energie mentali, chiaramente essendo nella fase decisiva della stagione, è elevato. E in questo momento, giocare ogni tre giorni, è chiaro che sta creando delle ompliazioni a tutti. Ti ritrovi in una partita in cui sembri fresco, brillante, in buone ondizioni fisiche, tre giorni o attre giorni dopo ti ritrovi nella situazione completamente opposta. Però, te l'ho detto, escluso che all'Atalanta, mi sembra che questa situazione valga un po' per tutti. Quindi è un momento in cui ci dobbiamo adeguare a una situazione nuova e fare punto in questo momento non è semplice e molto importante. Te l'ho detto, a di là delle prime due partite abbiamo fatto 2-0-0, ma quelle erano le partite di ripresa e quindi erano diverse. Se poi siamo entrati in un tourbillon di partite in cui stasera la squadra nel primo tempo sembrava una squadra stanca, una squadra poco brillante, nel secondo tempo improvvisamente era una squadra che ha avuto una tenuta alla distanza di ottimo livello. Ma ci dovremmo abituare a queste situazioni, ci stiamo abituando a vedere il doppio dei gol che di solito ci sono nel campionato italiano, perché chiaramente in questo momento della stagione rimanere corte e compatte è difficile per tutti e tutti prendono il gol. Buonasera Ministro, Marco Venditti, signora Mia Calcio News. Senta, una domanda. Siccome nella vita gli esami non finiscono mai, ovviamente nel calcio è uguale come concetto, ecco, dov'è che questa Juventus dovrebbe, diciamo, migliorare, continuare a studiare e per terminare questo campionato, che comunque anche se la matematica non la consacra il campionato d'Italia, ma anche in previsione della Champions League. Grazie. Noi in questo momento dobbiamo pensare al campionato. La Champions è lontana, abbiamo dei punti di vantaggio, ma non ci garantiscono nulla e quindi dobbiamo continuare a pensare a questo obiettivo in maniera forte, in maniera feroce, perché poi io la penso a me, Presidente. Tutte le altre manifestazioni sono dei tornei con eliminazioni dirette e il campionato invece dura 10-11 mesi e quindi la stagione di una squadra poi bisogna valutarla molto più sul campionato che su tutte le altre manifestazioni. Quindi in questo momento pensiamo al campionato, abbiamo chiaramente dei margini di miglioramento e stiamo alternando momenti di grande solidità in cui non si segna molto a momenti in cui si segna molto e perdiamo improvvisamente la solidità difensiva e qui non è un problema da attaccanti, è un problema di difensori, è un problema di atteggiamento della squadra, perché poi alla fine si segna di più se da dietro giovano tanti palloni e si prendono i gols e da manti cominciano a pressare in maniera feroce. Quindi è tutto un atteggiamento di squadra, sia la fase offensiva che la fase difensiva. Quindi abbiamo possibilità di trovare maggiori equilibri. Guido Vaciago, Tutto Sport, buonasera mister. Volevo chiederti se mercoledì dobbiamo aspettarci qualche cambiamento più consistente nella formazione, un po' di turnover. Avevi detto che a un certo punto avresti cambiato. Bisogna avere l'opportunità di farlo. Noi abbiamo passato un periodo in cui avevamo De Miral fuori, Alessandro fuori, Chiellini fuori, Chiedira fuori, Rams è infortunato, Iguain è infortunato. Quindi abbiamo fatto un periodo in cui a livello di rotazione non potevamo fare niente. In questa fase questi giocatori stanno cominciando piano in piano a rientrare, a rialenarsi con noi, ma ancora nessuno di loro c'ha 90 minuti. Io spero nei prossimi giorni che due o tre di loro mi diano la possibilità di incominciare a rotare qualcosa di più, perché ora le partite si stanno accumulando e potrebbe diventare importante avere più pedine da poter rotare. Penso che siamo vicini, perché Ramsey sta facendo spezzoni di partita, però si sta allenando in continuità. Iguain negli ultimi tempi si sta allenando in continuità. Giorgio purtroppo viene da 11 mesi con una partita sola. Alessandro sta tornando piano piano dentro e quindi speriamo di avere l'opportunità di rotarli di più. Stasera abbiamo tenuto anche precauzionalmente fuori Pjanic, perché era con un adduttore affaticato, quindi rischiare un infortunio muscolare in questo momento, anche se minimo, poteva voler dire fine campionato, quindi abbiamo preferito non rischiare assolutamente niente. Allora facciamo ancora Gago e chiudiamo con Della Valle. Sì, Mario Gago, Radio Onda Zero di Spagna. Vorrei chiederle di insistere su Pjanic. Ha detto che aveva un problema muscolare, non so se è stato lui a dirle se preferiva non rischiare, se avete parlato, insomma, come sta e se potrebbe rientrare per le prossime partite. No, io ho parlato non in medio. In medio mi ha detto c'è resto rischio e io non ho preso atto. Parlando in medio gli ho detto che l'avrei inserito solamente per pochi minuti in caso di estrema necessità. Non l'ho vista questa necessità, non l'ho fatta entrare con il ragazzo, non ho parlato perché sicuramente mi avrebbe detto che ci teneva a giocare. Però abbiamo sei partite decisive e quindi ho deciso io di tenerlo fuori per questo problemino muscolare che in medio mi ha detto poteva essere anche per io l'osso. Della Lega Zeta dello Sport, buonasera. Io volevo chiederle del cambio di Dybala, se l'ha visto stanco oppure se c'erano altre motivazioni. No, mi sembrava che la partita per Paolo può essere una partita difficile. Lui per caratteristiche predilige venire incontro alla palla e poi cercare di girarsi. Questi avversari te lo concedono poco perché in quelle situazioni vengono a difendere in avanti, vengono aggressivi e scalano velocemente le marcature e vengono e ti portano via di peso. O ti prendono la palla o ti fanno fallo. Quindi per Paolo era una situazione non semplice a un certo punto della partita. e visto che Gonzalo ci poteva dare in questo senso negli ultimi 20 minuti la possibilità di venire a Giare di Sponda e di aprire anche spazio in più per l'attacco della profondità di Ronaldo, abbiamo provato quello. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao. Grazie. 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 Grazie.